Asso Graniti e Asso Cave che torneranno probabilmente di nuovo insieme. Cosa c'è di vero? Sì, stiamo lavorando effettivamente. Asso Graniti e Asso Cave hanno preso i primi contatti proprio per vedere di unificare queste due forze. È molto importante per tutto il comparto lapidio che ci sia un'unica associazione per evitare proprio dispersioni di energia in tutti i sensi. Nel settore lapidio sono occupati oltre 1300 lavoratori e se consideriamo anche l'indotto che ne deriva arriviamo alle 1500 unità tranquillamente.